Salve a tutti ragazzi e benvenuto in... Cosa devo aspettare? Devo mutare checco Salve a tutti ragazzi e benvenuto in un nuovo video di Doran Red Qui con me oggi ci sono sia Raukros che Dragonhall Ciao a tutti Ciao a tutti No Quando ho felicità Vabbè comunque Dragonhall già lo conoscete Fai i gameplay insieme a me con la sua astro Dire invece lui è Rauk Vai di Raukros Presentati insomma Valerio è gay Valerio è gay mi raccomando non iscrivetevi al suo canale Lasciategli tutti i dislike Che ti cadano le palle un giorno Perché gliel'hai detto pure tu Più o meno Non lo sapevo Bene ragazzi è iniziata la nuova avventura di Poppy Ah non è Poppy Non siamo stati come leggere Ok le armi Ah no No Svegliamo Ti avevo messo lì dentro Non uscivi tu Ah lui è lo spammona mi dimenticavo Faccio sempre la stessa Sì È la prima volta che ho avuto questo personaggio Figo Ah sì è molto forte Vabbè pure me l'abbiamo Ecco ragazzi Questi sono i primi personaggi che loro usano Quindi Perfetto Quindi è giusto per dire che io sono un hub E loro sono forti Buongiorno Ultimamente Oh nooo Passate mi fanno provare No È caduto qualcuno giù Ho sbagliato Come perdere i punti free Come perdere i punti free No No Alcuna è uscito La ts Che c'ho messo Visto l'avete fatto prendere qua Lo fatevo anche io Quindi la smettete di spammare con il malattico Ah io sto solo provando il pg E poi mi non c'è giù Ah non voglio provare il pg Mi è arrivato un pugno in faccia Ho visto che l'hai danzato Ma non andavo provando Vabbè Questi sono dettagli insomma Allora Madonna non riesco più Ricordatemi di non giocare più con la tastiera Io lo sapevo Infatti mi devo fare in Italia E gioco con la tastiera E mi trovo bene Comunque non so come cazzo fai Ah dai ci sono giocatori anche in altri posti Anche più forti i giocatori in Italia Eh in Italia Nel mondo Vabbè ma comunque perché non sono abituato Ma non riesco a direzionare le cose Le pistole sono difficili Quando viene l'arma è più difficile da usare No le ha direzionare La faccia invece è l'arma più stupida da usare Ah così è che si direziona Ma io ora l'ho capito Ma smetti di fare Quindi è così il campione No Sì va sì va Ma io ora l'ho capito E vince Valerio Il primo round Vince il campione Montione De Brunalla Beh riprova Io ho scelto ormai La mia scelta è stata E' definitiva Insomma Insomma però No insomma Vabbè la vita è bella comunque Anche se uno sbaglia il suo italiano E' perfetta no? Anche se dico Al posto se avessi Se avrei Tranquillo no ragazzi No? Con giusto Oh stai male Basta Ehi non si dice che stai male a una persona Uno si potrebbe offendere no? Qualche questa patta che cazzo? Vabbè stai quasi male Stai quasi male Ecco ora è corretta la cosa Brava Beh ragazzi questo è il secondo game della giornata Vorremmo portare almeno tre partite Vediamo un po' come andrà a finire la situazione In questo caso Oh Oh scusami non vedevo Perdono Ma devi prendere la Ma devi prendere la Ce la fai a prenderla? No No c'era tipo Come si chiama? Ah Rauk Che non riusciva a prendere la Ok ora vado di qua e provo il personaggio Tutto tanto in vita Madonna Andatemi a farlo Ah io stavo colpendo lui perchè Ah è proprio da ship Perchè non è andato? E qui il silenzio No questa cosa che è Vabbè Dai che fai Mi avete colpendo lui Che cosa fa? Ma smetti di spammare porco giuro Chi propri E qui Che cosa fa questa cosa fa? Che cazzo Spammone del cazzo Oh Ah Bellissimo è stato E questa roba sicuramente l'ho perd.. L'ho perduto io E vabbè ci sta Che bellissimo quello che è successo Rima... Ah, questo è Oh, qualcuno è volato troppo in alto No, stillatore di kill Ciao No, l'hai visto? Ah, vabbè Ah, vabbè Come se fosse una cosa brutta l'hai visto No, no, non dai Vieni qua, se la vinci tu Bastardo Ah, lasciami farci uccidere quel maledetto Ma vince Cione che sei Sai, è vero che se uccidiamo noi Non ci preoccupare Io direi di andare tutti e due contro Giallu Vai, se no anche io Andiamo, vai Guarda Ah, che cazzo è un mare Mirami Ah, sì No E l'ha ciso E vinceremo due Allora nel red Che ho provo questo ragazzo Anche se prima si è suicidato con la bomba Non perseguirle Come vincere? Come vincere? Chiudiamo Aia No, vabbè E vince di nuovo il campione Dai vediamo cosa Come andrà a finire questa volta Questo Sto game Insomma Valeria La prima arma Ma si aggiudica Ecco qui va Da ora nel red Che cerca di Stare sull'attacco Tutto Principalmente Ora stanno giocando Saremente a tutti Qui Quindi questa qua è una sfida Importante Infatti la stela è insossentente Bellissima No, vabbè Secondo suicidio Le bombe non le ho usate ragazzi Allà Vabbè c'è lì beh Basta Vabbè Cazzo Meno male che non mi hai fatto la bomba No No Oh Donna Fatemi prendere un'altra Oh 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 Prendere la partita Delle mani Questo round ragazzi È molto dura So che Il silenzio tombale Per 5 secondi Ma Troppo Sai come Un combattimento Uno Ah basta Basta che Basta che No 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 Guarda È una troia Oh Non voglio morire così Oh Che salvataggio Ti va a dare Mi piace la skin Della mia lancia Quella è una skin No No Non l'hai già testa Eh L'ho presa gratis Propriamente Cazzo Raga è sempre ultimo ragazzi E' più scarso della squadra Io voglio Qualcuno è caduto Forse Non morire Vediamo cosa succederà In questo caso C'è della Drona land Che Continua a dare pressione Che hai fatto? Ma che cazzo Quindi Drona land Si è giudicato In un'altra partita Ragazzi Drona land Oh Oh Vabbè Drona land E Drona Continua L'aggare qui Un finale epico Mi ha dato Una sciata in petto Il mio messaggio Stava volando Dovresti giocare Alle scommesse Forse Ninja No Ma Con il mouse Si può anche Si no Lo sapevi No Eh ora lo sai No Ora Allora Forse potrei anche Giocare Alla La La Ma Io che cazzo Vabbè Qui continuano i colpi leggeri Nessuno riesce a incassare Ecco qui Dannodi Qui potevo fare la combo Solo che Le combo di Valerio Aia No È caduto qualcuno giù I pugni di Valerio Cioè Tipo siamo stati Zitti mezz'ora Però va bene Comunque Ormai Qui La sfida è aperta Qui qualcuno vuole vincere Adesso è sempre vantaggio Il signor Doran Red Aia Spugni di Dora Non vanno Nell'incasso Ma invece Per quanto riguarda Rauk Sta facendo tantissimi danni Ma questa volta Andrò Ezz Recuperò Abbiamo andato In finale Di Bru lalla Il Uno contro Uno per tutti Ecco Questo sarà il titolo Del Di questa partita Allora Direi di buttare Questo Quando si dice A tirare pugni Voglio togliere Questi pugni Del cazzo Ok Ciao Mi avresti ucciso Lì Però ti uccido Io Ti uccido Anche te Dabu Naka Eccolo Oh Siete scassi Voi Veduta No Minchia mi sono visto morto Lì Sennò mi scansavo Madone Volevi Senti che mi voglio Non cedere Ah Non cedere Non cedere 2 1 Go Do Oran Red Dominati Berserker 4 game Su 4 Ragazzi Questo è il segno Do Oran Red Silenzia Si vanta pure Silenzia Gli altri 2 Ah Quanto siamo bronzi In questo gioco Però vabbè Comunque Ci vogliamo Lo stesso bene Ragazzi Direi di fermarci qui Ci vediamo Nel prossimo episodio Se questa serie Cioè Se questa serie Che di solito E domenica portò Episodio a cazzo di canetti Tipo ad esempio Questo qui Che non c'è una serie Collegato O altre cose Quindi Se vi piace Questa tipologia Di game E altro Fatemelo sapere Con i mi piace Con i commenti Se portarlo ancora Questo gioco Ad accordo Anche con Dragon Allerrauk A parte questo Ovviamente ci sarà League of Legends Da giocare Possiamo fare League of Legends Brulalla Potremmo fare anche CS Altri tipi di giochi Che comunque si può Combattere tra di noi Insomma Quindi ragazzi Ci vediamo la prossima volta Ciao a tutti Ciao Salute voi Zingari Ciao Io ho salutato Moghi